Sono Eva Lotz e vivo all'Ecovillaggio Hukaki. Che cosa mi ha fatto scegliere l'Ecovillaggio? Penso che avevo sempre il desiderio di vivere in mezzo alla natura, poi insieme con altre persone, e poi si è presentata questa occasione quando ancora di Ecovillaggi non se ne parlava quasi, che hanno trovato, chi ha fondato la cooperativa poi ha trovato questo borgo abbandonato, completamente in rovina, la maggior parte delle case sono state buttate giù e rifatti ex nuovo, che abbiamo acquistato poi una decina di famiglie dove finora viviamo.